bene provo a fare una skin care è la prima volta che faccio queste cose perché non mi sono mai presa cura di me stessa quindi sto incominciando a prendermi cura di me e sto usando questi prodotti della idros abbiamo l'esfoliante abbiamo la crema per pelle normale a mister e poi metterò questo per gli occhi che è un roland identificante poi ho preso pure le creme no le creme le maschere oggi magari farò questa qua rosa che è uno scrub cos'è questo? e niente incominciamo la pelle allora questo dice di lavare la faccia è un po' Grazie a tutti. Grazie a tutti. Mi prendiamo un po'. Questa è la consistenza. Lo metto a fuoco, non so come fare, però dai. E' proprio uno scrub. Magari dopo mi sento la faccia pulita. Per me questo è tutta una novità perché non sono mai stata una persona che si prende cura di se stessi, quindi per me questo è l'inizio. E devo dire che mi sento la faccia piena di scrub di cose. Ok, allora questo è la faccia in tutto l'avento e ora la vostra scelta la scelta. Ciao. 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 Allora la mia preoccupazione è che mi sento un po' come se non si sia asciugata bene, ma penso che ci vuole tantissimo. E basta. Questa è la mia skin care. Allora, vedete, è un po' illuminata, non capisco perché, cioè, non lo fate sapere, magari sbaglio qualcosa qui. E niente, mi do la ai capelli. Sì, sono registrata col cellulare perché non ho fatto con me, non è più comodo, non c'è più il vetto. E vabbè. Skin care fatta. Questa è Tyson. Comunque, vi saluto. E fatemi sapere quali prodotti voi utilizzate e quali sono gli step che voi fate perché sono molto interessata. Alla prossima, ciao! Ciao!